Sono qua all'entrata dell'ospedale Sto registrando questa clip Sono completamente andato Io non so cosa mi sia successo Mi hanno pestato a sangue raga Mi hanno pestato a sangue Dico solamente che non mi è mai successo Di arrivare ad un punto tale Che per registrare dei video su youtube Di farmi tutto questo mi fa completamente male la faccia Mi è partito il naso raga Non sento più il naso Penso che si sia rotto Neanche a spiegarvelo Scrive di toilet E lo sciavano Mi hanno aggredito con dei bastoni Dei sassi che avevano all'interno delle mani Non ho capito che caspita Sono in fase di shock ragazzi Non riesco neanche a parlare Sto per entrare in ospedale Sto aspettando il mio turno ragazzi Perché mi hanno fatto Veramente, veramente male Erano circa le 11 di sera Quando tutto questo era successo Ma non vi preoccupate Perché adesso vi spiegherò meglio Allora ragazzi Vi spiego in breve quello che mi è successo Perché sono ancora in fase di shock Mi fa completamente male tutta quanta la faccia In pratica dopo l'ultima clip Che sicuramente tutti quanti voi avrete visto 3, 2, 1 Oddio Oddio Venite qua Venite qua Sono stato colpito ripetutamente Più volte da bastoni Sassi Pugni Calci E tanto altro Da parte dello sciamano E dello schibi di toilet Io non pensavo Arrivasse veramente A un livello tale E vorrei anche mostrarvi ragazzi La mia maglia O botte ovunque Ma prima di chiudere il video C'è un piccolo messaggio Che mi hanno mandato Da una persona Che di sicuro Non vi aspettereste mai Ve lo faccio vedere E del resto non vi preoccupate Perché in questo momento Mi sto riprendendo Ho visto che la caglia Sei l'ospedale Ma non vi preoccupate Da stupi da ex L'apagera ETH Junior